edx ui ha un'applicazione desktop a schermo intero che ricorda un'interfaccia fantascientifica per computer fortemente ispirata a dex ui e agli effetti cinematografici di tron legacy e segue la scella di tua scelta in un vero terminale e visualizza informazioni in tempo reale sul tuo sistema è stato progettato per essere utilizzato su touch screen di grandi dimensioni ma funzionerà naturalmente bene anche sul normale computer desktop il programmatore non aveva grandi fantasia per dargli un nome e quindi per semplicità prese dex ui aggiungendo una e per electron questo software è possibile eseguirlo su windows l'ultimo mac os e qualsiasi distro linux che supporti chromium per il nostro windows fortunatamente lo lanciamo tramite un ex il setup pesa circa 65 megabyte ed è vivamente consigliato avere un buon quantitativo di ram si parla dagli 8 giga in su progetto è abbastanza vecchiotto ma grazie a un abile ragazzo francese è stato ripreso vi lascio in descrizione il link gtube dove potrete trovare tutte le informazioni possibili i singoli file del progetto screenshots e soprattutto i download per le varie piattaforme grazie a tutti 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 grazie a tutti